Tornavi da avversario, una partita speciale per te Alfredo Romano, hai scritto la storia del Marcianise, un'emozione davvero tutta particolare. Sì, sono tornato dopo tanti anni su questo campo dove ho vissuto dei momenti bellissimi, abbiamo regalato una grossa soddisfazione sia ai tifosi che a noi stessi, come hai detto tu, abbiamo scritto la storia, è stato emozionante ritornare e giocare contro il Marcianise. È stato bello rivedere anche l'abbraccio ideale dei tifosi del Marcianise, è stata una partita non bellissima, con punti in palio importanti per entrambe, alla fine rimanete forse anche un po' male, perché in 11 contro 10 potevate fare qualcosina in più nel secondo tempo. Sì, è stato il primo tempo, potevamo sbloccarla su qualche occasione, abbiamo fatto una buona prestazione, nel secondo tempo siamo calati, il Marcianise ha tirato fuori carattere, si è difeso bene, la partita poi è ristagnata un po' sullo 0-0, potevamo fare qualcosa in più forse il secondo tempo, sfruttare meglio la superiorità numerica, però va bene così, diamo continuità, va bene, va bene. Hai calcato di nuovo il campo dei sogni, qui si sono concretizzati momenti bellissimi, la cavalcata dalla D alla C1, il grande Real Marcianise dell'era bizzarro, ma quando sei arrivato al Procredito, che hai pensato? Ma è rivissuto un po' come se la mente fosse andata a rivivere tutti quei momenti, tutte quelle belle sensazioni dai tifosi, dall'era del padron bizzarro, è stato emozionante perché veramente abbiamo scritto pagine importanti della storia Marcianisana e sono lieto e fiero di farne parte. Ma se ti dovessero dire un ricordo al volo? Ma il ricordo più bello, diciamo ce ne sono più di uno, devo essere sincero, sia la promozione dalla D, la vittoria dei playoff della C2, la C1, poi abbiamo fatto veramente qualcosa di importante, abbiamo regalato una gioia a noi stessi ai tifosi, è una città intera perché è stata coinvolta l'intera città, poi abbiamo portato al Procredito la Spale, il Verona, la Reggiana, grandi piazze blasonate ed è stato un onore, un piacere confrontarsi con queste realtà. Sono passati ormai 15 anni, eri un ragazzino, hai qualche anno in più però il piede ce l'hai sempre, la corsa e la fame ce l'hai ancora? Ma è quello che fino a quando avrò questo atteggiamento e questa voglia di giocare, di mettersi in discussione, resterò ancora in campo, quando mi accorgerò che non avrò più la passione e il fisico smetterò.